E adesso che farò non so che dire E' freddo come quando stavo solo Ho sempre scritto i versi con la penna Non ordini precisi di lavoro Ho sempre odiato i porci ed i rufiani E quelli che rubavano un salario E' freddo come quando stavo solo 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 E' freddo come 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 stavo solo Quindi avremo modo anche di vedere come si mette su un museo, nel vostro caso è un museo che si ispira al territorio, quindi un museo del territorio e nello stesso tempo andremo a vedere anche un museo privato che è stato realizzato da un privato come Giovanni, Giovanni Lia. Poi avremo modo di discutere direttamente nell'ambiente da lui allestito. Quindi iniziamo il nostro percorso Alessandro, tu vuoi dire qualcosa? Io do il benvenuto, vi ringrazio per la vostra presenza, a nome mio di tutta la Prologo Sersale e della cittadina tutta. Oggi sarete i nostri ospiti, saremo lieti di portarvi lungo tutti i nostri percorsi naturalistici, come dicevi tu anche sul museo storico, sul primo museo della centrale idroelettrica di Sersale, quindi di tutto il territorio, di porte d'artista. Oggi sarà un viaggio tutto all'insegna del benessere, del divertimento, della storia, della cultura e della bella compagnia. Grazie, iniziamo il nostro percorso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo alla porta d'ingresso della riserva naturale regionale Valle Cupe e con noi c'è Giuseppe che ci fa la prima guida, ne abbiamo più di una. Giuseppe è un componente del direttivo della Prologo. Allora diamo un'idea ai nostri telespettatori cosa andremo a visitare. Allora benvenuti a Sersale. Oggi visiteremo su 25 cascate quelle più, come devo dire, più interessanti e più comode da visitare. Giuseppe, perché se andiamo al canyon ci vuole la guida e bisogna telefonare perché se no si perde. Allora con queste cascate sia del Gole e del Cocchio è semplicemente in mezz'ora tranquilli si può visitare. Eppure con i bambini perché veramente non è pesante. Giuseppe scusa, allora per quanto riguarda il canyon naturalmente oggi no. Il canyon è uno dei più grandi d'Europa, è fantastico e verremo quest'estate per visitarlo in tranquillità. In realtà tu ci farai la guida e noi verremo dietro. Oggi andiamo a vedere due cascate, ma in tutto quante cascate ci stanno in questa riserva? Allora riconosciute 25. 25 cascate. 25 cascate, sì. In cui bisogna seguire con la guida. Grazie alla riserva delle vali cupe che a quest'anno abbiamo fatto delle guide molto professionali. Allora poi… Allora Giuseppe ascolta, siccome qui dovranno venire dei bambini delle scuole, no? Questo percorso è fattibile per bambini di scuola primaria innanzitutto? Bisogna tener conto che stiamo parlando sempre di natura, allora c'è bisogno di scarpe di stretching, vestiti pesanti perché… Siamo a 800 metri d'altezza. In questo percorso si possono trovare animali, perché si parla sia di vegetali sia di biodiversità. E questa è una fauna. Allora della fauna, ci sono tante altre cose. Allora iniziamo, si chiama Gole del Crocchio. Iniziamo la nostra visita. Il mio Virgilio Giuseppe mi lascia e lascia a sua volta il microfono a un altro accompagnatore, un'altra guida, Giovanni. Giovanni lo rivedremo nel museo perché è lui l'autore che ha ideato e ha costruito nel tempo, in 40 anni di attività, il Museo dei Mestieri. Che museo? Il Museo Storico Economico di Sezzale. Sezzale. Bene, però adesso ci guido in questo cammino nella riserva naturale regionale e siamo davanti a un pastillaro. Che cos'è il pastillaro? Era una struttura dove venivano lavorate le castagne, venivano essiccate, poi si facevano i famosi pastilli, che se ne faceva la farina per i dolci e anticamente se ne faceva il pane. Cosa resta di questa tradizione assersale? Ma qualcosina è rimasta, però diciamo in modo molto esiguo. Ma la lavorazione delle castagne, qui siamo in un luogo dove c'è una produzione di castagne. Purtroppo negli ultimi tempi il castagno ha subito un'aggressione da parte di un parassita che ha compromesso la produzione, no? Però questa è una zona di castagne. Sì, è una zona di castagne, però diciamo attualmente negli ultimi anni si è ripreso un pochettino. Lavorazione come nei tempi passati non c'è più, comunque c'è la raccolta, c'è la calibratura e il commercio, però come lavorazione... Il loco non c'è più. Mentre abbiamo visto che ci stanno degli ottimi olifici, anche a livello industriale, poi se sarà possibile andremo a vedere questi olifici. Allora entriamo nel parco, viene con noi Giovanni. Andiamo nelle cascatelle del Crocchio. Andiamo nelle cascatelle del Crocchio. Allora, siamo di nuovo con Giuseppe, siamo sul percorso per andare a quale posto adesso visitiamo? Quale posto andiamo a visitare ora? Il prossimo? Qual è il posto che andiamo a visitare? Il Crocchio. Il Crocchio, che cos'è il Crocchio? Allora, il Crocchio chiamava il Crocchio perché si formava proprio, come devo dire, a cappella. A cappella. Ma che cos'è? Che cos'è? A cappella dove si bruciava e si produceva il, come si chiama? Il carbonio per cucinare. Il carbone? Sì, il carbone. Qui c'era la lavorazione del carbone, dalla legna, dalle cataste di legna si formava questo carbone che noi abbiamo nelle serre che abbiamo già conosciuto. Ora andiamo a vedere le cascatelle, vero? Le cascatelle in cui non si può fare il bagno perché siamo... Ci mancherebbe altro. Ci serve naturalistica ma ci sono... No, ma a parte le serve naturalistiche, fa freddo. Ma ci sono dei piccoli batteri che trasformano l'acqua in sostanza organica, in sostanza pure, in cui l'acqua è candida. Questo non si può bere. Non si può bere? No, 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 perché ci sono queste impurità e non si possono bere. Eh vabbè, però si possono ammirare. Sì, si ammirare e si può fare il bagno. Però d'estate, adesso non è possibile. Andiamo, grazie Giuseppe, grazie, andiamo. Siamo sulla balcone. La sconata della cascatella del fiume Crocchio. Questa è una meta più conosciuta dai tedeschi che da noi calabresi. Ecco perché noi abbiamo fatto TAP dopo un breve percorso a piedi. Ben fatto però, devo dire. Ben fatto. Quindi mi complimento con la cooperativa che ha realizzato questo lavoro e questo percorso. e il microfono però adesso passa all'esperto numero uno, non me ne voglia Giuseppe. Allora, Giovanni è un esperto perché è uno dei soci fondatori che ha realizzato questo percorso. Come nasce questo percorso? Allora, questa è un'idea che ha avuto il dottor Lupia oltre 20 anni fa di valorizzare l'area Valle Cupa, oggi riserva naturale. Quindi poi lui è un esperto in materia, un botanico e abbiamo incominciato a fondare questa cooperativa qua. Poi lui è un ricercatore, uno scopritore di tutti questi siti qua ed è stato valorizzato con l'appoggio del comune Zersale, la regione, la provincia. Insomma, si è arrivato a questo qua. E questo è uno dei tanti siti perché Zersale conta all'incirca 100 cascate. Allora, vedi Giuseppe come l'esperto ti corregge. Tu ne hai detto 25 e ce ne stanno 100. Ma 25, quelli più non importanti, non più conosciuti, quelli più semplici da seguire da guida. Benissimo, allora chiedo scusa a Giuseppe che mi ha rettificato ulteriormente. Viene qua davanti al microfono. Allora, invece abbiamo qualcosa come 100 cascatelle. Questo lo dobbiamo dire oggi che si parla di penuria d'acqua. La regione Calabria è una regione ricchissima, specie quest'area è ricchissima d'acqua. Già sentiamo questa cascata, questo rumore che è affascinante. Dovete pensare che qui sotto, scusate, c'erano due centrali idroelettriche. Poi andremo a visitare i resti del museo sulle centrali idroelettriche. Ancora oggi le stanno ricostruendo, ce ne sono due in attività. Perfetto, perfetto. Quindi il nostro operatore, se ci fa la cortesia di riprendere questa abbondanza d'acqua e questa bella vegetazione, veramente è un panorama stupendo. Noi siamo in una oasi vera e propria. E questo è un luogo da poter visitare con i ragazzi, da farne motivo di laboratorio scientifico, perché si presta benissimo al laboratorio scientifico come aula esterna. Noi siamo in una oasi vera. Noi siamo in una oasi vera. Siamo con Francesco. Francesco è uno studente di informatica presso l'Università di Cosenza ed è anche un lavoratore. Lavori in un'attività della protezione civile. Sei un... Svolge l'attività di servizio civile. Ed è un nostro accompagnatore, è stato molto bravo ad organizzare tutta quanta la visita di oggi. Allora, Francesco, dove ci troviamo? È bellissima questa immagine che abbiamo alle nostre spalle. Le nostre spalle sono le gole e cascatelle del Crocchio. Sono uno dei tanti fiumi che abbiamo qui nel territorio, se non il più importante. Sfoggia a tirivolo, quindi quasi a 1500 metri e poi arriva fino a Squillagio, quindi nel colpo di Squillagio. Sfoggia nel mare nel colpo di Squillagio. È uno dei più importanti, insieme anche a Campanaro e ad altri tanti corsi d'acqua che abbiamo qui nel territorio, che sono una delle nostre risorse più importanti. Bene, quindi se per esempio i ragazzi della scuola primaria e della scuola media volessero venire a svolgere le loro attività di cerca all'aria aperta, sarebbe una giornata di educazione ambientale veramente interessante. Abbiamo più di un sito su cui poter far andare i nostri ragazzi, in più abbiamo anche il museo che è a Portaparco della storia economica della presida catanzarese, e quindi in caso di mal tempo noi possiamo anche ospitare i ragazzi al chiuso, quindi anche nel periodo invernale. Poi andremo a vedere il museo e lì ci sarà Giovanni che avrà tanto da raccontarci. Grazie Francesco. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dopo la pausa allo Scaccomatto, rinomato ristorante di Sersale, riprendiamo il nostro percorso. Siamo all'interno della casa municipale che ospita il museo delle tradizioni e dell'economia del territorio di Sersale e della Sila Piccola e ci fermiamo un attimo su questo murales che racchiude un po' qual è tutta la storia del territorio. Lo facciamo con il nostro amico architetto, l'architetto si chiama? Carlo Bianco. Carlo Bianco ci darà una prima spiegazione di questo murales che racchiude tutto l'itinerario che è dentro il nostro programma e poi andiamo al piano superiore per visitare il museo. Il museo LIA è conosciuto con un nome piuttosto lungo, quello del museo dell'economia territoriale di Sersale e della Sila Piccola ma di fatto è un museo realizzato da Giovanni LIA che è un appassionato che da 40 anni raccoglie reperti per questo museo. Allora vediamo come si presenta. Questo murales riassume in immagini quella che è la storia della nostra comunità di Sersale ed è un escursus molto veloce sui tratti salienti della storia appunto del nostro comune e della nostra comunità. Sersale ha una storia particolare perché ha una data di nascita ben precisa che è il 3 agosto 1620 fu allora infatti che il barone Francesco Sersale con un atto di enfiteusi diede dei terreni a degli oriundi di Serra Stretta a che si trasferissero qua sopra sulle montagne e fondassero una piccola comunità basata sull'agricoltura e sull'utilizzo delle foreste. Da allora la comunità è cresciuta fino a diventare la città che è oggi Sersale ed ha attraversato in questi secoli una serie di vicissitudini e di avventure. Di sicuro come potete vedere una figura importante della nostra comunità è Carmela Borelli. Chi era Carmela Borelli? Carmela Borelli era una donna, una mamma di Sersale, una persona normale se così possiamo dire che però fece un atto straordinario. Carmela Borelli infatti per salvare i propri figli dalla neve immolò la sua stessa vita e diede due volte la vita ai figli. Stiamo parlando degli anni del fascismo, fu una figura presa ad esempio come donna perfetta per quegli anni, per l'ideale di donna che c'era per quegli anni e ancora oggi non la ricordiamo con il nome della nostra scuola elementare e con un premio organizzato dalla provoca di Sersale, il premio Carmela Borelli che viene data a una donna calabresa che particolarmente si è distinta in qualsiasi campo dello scibrio umano. Allora prima di andare avanti anche per dare un'informazione completa ai nostri telespettatori già che parliamo di una donna che durante il fascismo è stata presa ad esempio diciamo che questo è un territorio che è molto frequentato e su cui è molto operato un quadrumbero dell'era fascista, colui insieme agli altri quadrumbre insieme a Benito Mussolini fece la marcia su Roma cioè Michele Bianchi che sarà segretario del partito nazionale fascista era molto legato non solo perché era calabrese della provincia di Cosenza ma perché era legato da un rapporto d'affetto e più che d'affetto con la Marchessa De Seta. Andiamo avanti. Beh, cos'altro dire? Sicuramente il castagno è un altro simbolo che è proprio il simbolo del comune di Sersale il castagno e l'utilizzo del frutto del castagno per noi è stato per secoli il nostro pane e ancora oggi è un elemento economico importante sia da un punto di vista appunto strettamente economico sia da un punto di vista antropologico, uno dei nostri simboli così come l'asila. Abbiamo vissuto decenni e secoli con lo sfruttamento delle foreste dell'asila quello che vedete è il trenino della Sofome che portava il legname dall'asila fino al porto di Crotone passando da Petilia Policastro ci tengo a sottolineare, ecco, quella è una vittoria sportiva invece della nostra comunità è la squadra dell'AS Sersale che ha vinto il campionato d'eccellenza calabrese e si è qualificata al campionato di serie D questo è più recente questo è l'episodio più recente che però l'amministrazione comunale ha inteso giustamente inserire in questo largo panorama c'è un richiamo al periodo francese sì, quello è un richiamo al periodo francese poiché un sacerdote sersalese riuscì a fermare l'esercito francese che aveva intenzione di demolire, nel vero senso della parola, l'agglomerato di Sersale per dei fatti di sangue che c'erano stati qualche giorno prima ma questo sacerdote li convince a desistere dai loro propositi infine voglio sottolineare proprio oggi la Madonna del Carmine la processione della Madonna del Carmine che avviene l'8 e il 21 marzo in cui noi prendiamo la statua della nostra patrona la Madonna del Carmine appunto e la portiamo sulla chiesetta del Monte Croce che è una chiesa votiva a ella dedicata quindi questo è un grande scursus che determina in basso a sinistra vedete il cinema Aurora che era presente fin dagli inizi del secolo nella nostra comunità quindi c'era anche il cinema la produzione di energia c'è una tradizione orale che dice che il cinema è il Sersale del 1910 quindi prima in assoluto dopo quello genovese assolutamente sì, questa è una cosa di cui andiamo molto fieri infine la produzione dell'energia elettrica perché la nostra comunità ha avuto l'elettricità ancora prima del capologo di Catanzaro e poi andremo a vedere anche che c'è un reperto che testimonia appunto del sfruttamento dell'energia elettrica grazie al dono naturale dell'acqua certo, certo e poi abbiamo un elemento ambientale di grande richiamo non ultimo anzi di grandissima importanza il canyon delle Vallicupe che dà il nome alla riserva naturale delle Vallicupe che è stata istituita con legge regionale della regione Calabria quindi le Vallicupe in questo momento sono una delle riserve naturali della regione Calabria e sono un punto di forza di tutto il nostro territorio non solo di Sersale e su questo puntiamo molto per uno sviluppo del turismo green del turismo verde che vogliamo fare in questi anni grazie e proseguiamo il nostro percorso al museo grazie a tutti 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 abbiamo abbiamo il Dixon grazie a tutti 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 funzionante grazie a tutti 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 siamo siamo grazie a tutti 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 abbiamo tutti grazie grazie a tutti 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 grazie a tutti